Che faccio? Vedi che io c'ho sua amica, insegna, il giocatore da Napoli, sempre lui, io mi domando sempre di lui, io parlo sempre di lui, parlo bene di lui. Ma stando qua vicino non è che qualcuno ti chiede una foto? Te l'hanno detto tutti, tutto, politiamo tutti. Tutto pronto al Barbera per Italia Macedonia, la capienza sarà al 100% ed è già tutto sold out. Mi auguro che vince, anche per il Palermo e fare lo Stato di Palermo internazionale. Da dove venite? Da Genova. Siete venuti a postare la partita? Sì, sì. Li abbiamo visti ieri, sono scesi dal Pullman ma sono subito andati via, quindi non si sono fermati, solo Gollini è venuto a firmare. Pronostico per stasera. Sì, teniamo, figa, è un giocatore troppo forte, 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 forte. Sono andati a Firenze, sono andati a Roma e ora siamo anche qua a Palermo. È stato facile trovare i biglietti? Ma io personalmente parlando ne ho trovato uno soltanto, quindi andrò da solo. C'è stata una richiesta che non ci aspettavamo. Quanti panini state preparando? 150. Soprattutto pane e panelle, proprio il nostro street food palermitano. Quanti chili sta preparando? Un 5 chili. Ci sono molte persone che vengono da tutta Italia, quindi sarà un modo anche per... Ecco, sarà un modo più che altro per stare anche in questa occasione un po' tutti assieme. Visto queste brutte cose che ci sono, magari dico uno spiraglio di cose belle, di tanto in tanto ci sta. Il risultato finale? Vole tutto, vince tutto cuore, tutto vince. Lo sappiamo tutti ma non lo voglio dire. Andiamo avanti, vediamo stasera. Ansia, quella tanda. Non diciamo niente, però forza azzurri sempre.